Il no grazie di Loredana Capone, messo lì dalla vicepresidente della Regione Puglia tra i commenti sul suo profilo Facebook, ha generato non poca ansia in questi giorni presso il quartier generale del PD di Via Tasso a Lecce. Come ormai succede da tempo, il dibattito politico a più livelli avviene sulla piattaforma del social network e la vice di Vendola ha pensato di mandare il messaggio al suo partito in trepidante attesa della sua risposta così sul web. Una doccia fredda per il PD che si ritrova, nonostante avesse assicurato in ogni modo alla Capone il totale unanimo e il sostegno senza un candidato da sottoporre alla primaria del centro-sinistra e quindi alle prossime amministrative leccesi. L'argomento farà discutere animatamente l'assemblea provinciale che tornerà a riunirsi presso la comunità in mano il 7 novembre prossimo. Ormai è chiaro, il PD, se Loredana Capone non dovesse ripensarci, non sa a questo punto chi far scendere in campo ma nonostante le grandi difficoltà di individuare l'alternativa a Lecce, il Partito Democratico cerca di prendere fiato e di autoconvincersi di essere la guida per il cambiamento di marcia di cui la sanità e l'economia pugliesi evidentemente necessitano. Il PD Salentino, scrive il presidente dell'assemblea Cosimo Durante, si sente assolutamente all'altezza della sfida ed intende mettere sul tavolo la propria proposta in maniera forte ed autorevole ed è così continua che intende affrontare il prossimo appuntamento elettorale quello che nella primavera del 2012 porterà a rinnovare le amministrazioni comunali del capoluogo provinciale e di altri 19 importanti centri della provincia di Lecce ma al di là delle frasi da campagna elettorale resta il dilemma c'è area da resa dei conti in casa PD se l'alternativa non c'è di chi è la responsabilità e come fare ora a recuperare una carenza che a quanto pare esiste davvero.